Livelli record per evasione e sommerso economico in Italia. Lanciare l'allarme è l'ufficio studi di Confcommercio che oggi ha presentato lo studio dal titolo Tasse le cambiamo, come ridurre la pressione fiscale e far emergere l'economia sommersa. Nel dettaglio è sommerso economico in Italia al 17,4% del prodotto interno lordo nel 2012-2013, una percentuale che porta all'imponibile ogni anno sottratto al fisco a 272 miliardi di euro. Il sommerso nel bel paese risulta dunque più elevato che nella maggior parte delle economie avanzate. E' una diretta conseguenza di questa situazione che la pressione fiscale si scarica su una fetta minore della popolazione. Secondo le stime di Confcommercio la pressione fiscale effettiva si attesta quest'anno al 54% al top fra le economie sviluppate.